Ciao Ada, grazie di questa tua condivisione, hai toccato alcune tematiche interessanti. Io ovviamente non c'ero, non ho sentito che cosa ha detto, non conosco la tua famiglia, quindi non posso risponderti a questo tuo dubbio legato alla riappacificazione con tuo padre. Penso però che subito prima la morte o subito dopo avvenga una riappacificazione, almeno da parte loro, anche se noi non ne siamo consapevoli. Quello che tu potresti fare però è ora una sorta di atto psicomagico, ovvero onorare tuo padre e quindi prenderti uno spazio, crearti un tuo rituale personale, accendere un incenso, una candela, fare una preghiera e perdonarlo, perdonarlo tu, quindi chiudere quello spazio di un qualcosa di irrisolto e ringraziare, ringraziare con la convinzione che ti abbia perdonato. Questo secondo me è importante perché molto spesso siamo noi in realtà a cristallizzare le situazioni perché ci sentiamo in colpa, perché non siamo pronti, perché sentiamo di avere un irrisolto, ma sono aspetti principalmente nostri. Quindi andando ad agire in questo modo aiutiamo a pacificare le energie che sono dentro di noi, ma che sono in relazione anche con loro. Per quanto riguarda la metafonia, io posso parlarti della mia esperienza. Quando è morta mia zia ho chiesto a una mia amica che fa metafonia una mano ed è stata un'esperienza interessante perché io poi ero curioso principalmente, ma visto che sognavo tutte le notti mia zia e non riuscivo a capire che cosa volesse dirmi, ho cercato anche di comprenderlo attraverso questo strumento. E quello che posso dirti è che non è facile perché c'è molto rumore di fondo, nel senso che ci possono essere altre voci, altri spiriti che parlano, ma devo dire che nel mio caso è stato detto un qualcosa che sembrava strano, perché poi va anche decodificato in un certo senso, però era vero, era vero, e da lì nel giro di due settimane quella cosa si è verificata. Nella metafonia aveva parlato di un conto corrente di cui noi non sapevamo l'esistenza e appunto uno o due settimane dopo c'è arrivata la notifica.